Sono 821 i progetti di giovani agricoltori pugliesi ammessi all'istruttoria tecnico-amministrativa prevista dal bando PSR, il primo insediamento in agricoltura sulla misura 6.1. A fronte di una dotazione complessiva di 55 milioni di euro prevista dall'avviso, i progetti dei giovani agricoltori sono tutti potenzialmente finanziabili al netto delle successive verifiche istruttorie. A darne notizia è l'assessore all'agricoltura della regione Puglia-Pentassullia che analizza i dati di chiusura di questa prima fase della procedura dematerializzata. L'avviso pubblico è destinato all'avviamento e al sostegno di imprese di giovani agricoltori. A fronte di 903 deleghe correttamente accettate, secondo quanto previsto dal bando, sono stati creati 835 EIP, tra cui 821 elaborati regolarmente inviati per un importo totale di finanziamento richiesto pari a circa 49 milioni di euro. Fino al 9 settembre prossimo, il procedimento del bando della sottomisura 6.1 prevede il rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian, dedicato all'erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Al bando, che ha un carattere a sportello, in presenza di ulteriori risorse finanziarie, come comunica l'autorità di gestione del PSR Puglia, sarà riservata, con le risorse già disponibili e residuali, una nuova finestra per altri progetti dedicati alla valorizzazione e sostegno dell'imprenditoria agricola giovanile di Puglia.